Buongiorno, io sono la rischia di Pesadissa e mi è stato chiesto di farvi uno scenario. Io credo che queste prime relazioni abbiano dato un quadro molto chiaro del valore che la ricerca scientifica in un settore che è un po' all'interfaccia tra la medicina tradizionale e l'ingegneria tradizionale può portare come prospettiva. La domanda inquietante, devo dire un po' inquietante, che ci siamo fatti è siamo in grado, possiamo riprogettare il corpo umano? E ho voluto interpretarla in questa breve relazione su due aspetti fra loro distinti, diversi, che però hanno delle fortissime interazioni. La prima è siamo in grado di riprogettare il corpo umano o pezzi del corpo umano? E la seconda è siamo autorizzati a farlo? Perché è chiaro che essere in grado, avere la tecnologia, non sempre, significa che siamo autorizzati a fare questa tecnologia. Cioè dobbiamo affrontare aspetti da una parte tecnologici, cioè dove siamo arrivati, quali sono le prospettive e l'altro sono aspetti che chiamiamo tecnoetici, cioè qual è l'etica che coinvolge l'uso delle tecnologie. Sicuramente la sostituzione di funzioni o il ripristino di funzioni è una cosa che l'uomo ha sempre voluto fare, sicuramente per curare alcune malattie. Ora qui sono esempi semplici che sono molto ancora, periodi anche molto lontani del tempo. L'occhiale che consente di ripristinare la funzione visiva, un arto inferiore che consente all'amputato di ricamminare. Queste cose noi le accettiamo, ci sembrano normali, naturali, anzi le cerchiamo. Le cerchiamo e continuiamo a innovarle. Attualmente, pensate nella vista, siamo in grado di sostituire addirittura delle componenti dell'occhio. Abbiamo il cristallino artificiale, la tecnologia chirurgica ci consente di applicare delle cose che erano inimmaginabili forse 30 anni fa. E abbiamo degli arti artificiali che non sono più come quello del soldato della prima guerra mondiale, ma abbiamo arti artificiali che funzionano molto bene, con articolazioni efficaci, sono leggeri, si indossano bene e quant'altro. Ma addirittura stiamo cominciando a pensare all'oltre. L'oltre dice, abbiamo occhiali, oggi vediamo gli occhiali Google, quei quali non solo vediamo ottimamente, ma vediamo in rete. Pensateci, potremmo immaginare avere occhiali che vedono agli infrarossi, che vedono di notte. Cioè stiamo parlando di aumentare addirittura le prestazioni. Allora, qui cominciamo a entrare in un ambito un pochino più delicato. Cioè sostituiamo una cosa che non funziona più o lo sostituiamo una cosa perché funzioni meglio? Sicuramente è molto noto l'arto artificiale con cui correva Oscar Pistorius, che dà prestazioni superiori alle gambe naturali. Ecco, queste cose cominciano a esserci. Dov'è il confine? Allora, qual è l'evoluzione? Qual è stata l'evoluzione? Perché chiaramente il confine ha a che fare con un'evoluzione in cui oggi siamo in un certo periodo, una cosa va avanti. Questo è il cuore artificiale. Abbiamo parlato di pancreas, ci sono altri organi che sono stati oggetto di evoluzione tecnologica. Questo è il primo cuore artificiale nel 69, una pompa con il quale è stato tenuto in vita per poche ore un paziente, che era già morto perché all'epoca per mettere un cuore artificiale il paziente doveva essere in condizioni disperate. Oggi esiste un sistema, una pompa che viene impiantata permanentemente nel torace di un paziente con un'insufficienza cardiaca e che è in grado di tenere in vita il paziente. Cos'è successo in questi 40 anni? Sono successe tante cose. Guardate, dal punto di vista dell'esperienza biologica, sicuramente l'uso dell'eparina è stato un momento importante. L'eparina consente di inibire la coagulazione del sangue e tutto ciò che è artificiale fa coagulare il sangue. Quindi questo è un passaggio importante. Il primo trapianto di rene del 62, il primo trapianto di cuore del 67, cioè non sto parlando di cose molto molto lontane nel tempo. Per quanto riguarda la dialisi, il rene artificiale, nel 25 sono stati fatti i primi esperimenti di dialisi e nel 66 la dialisi è diventata domiciliare. Per quanto riguarda il cuore, il primo uso clinico della macchina cuore e polmone, la macchina che consente di fare interventi di cardiochirurgia è del 53. Nel 63 è stata per la prima volta impiantata una pompa nel torace di un paziente e nell'82 è stato fatto il primo intervento di cuore artificiale totale. Io lo ricordo, ero appena laureato, cominciavo a occuparmi di bioingegneria e il grande tema all'epoca sui giornali era chi ha la chiave per spengere la macchina. Perché il tema è di nuovo, io sono attaccato a una macchina che mi consente di vivere, se la macchina si ferma muoio. Nel 50 un'azienda ha cominciato a produrre in serie dializzatori. È un evento importante, prima non esisteva l'industria biomedica. Quindi un'industria ha cominciato a produrre dializzatori e poi via via nel 2002 la Food Administration ha approvato l'uso clinico permanente di una pompa ventricolare. Ecco, queste sono storie degli ultimi 40 anni. Tutto questo comporta una ricaduta. Giovanni Sparacino ci ha fatto vedere come si trasferisce, ci ha fatto vedere che qualcuno protegge l'innovazione anche in questo settore. Questo è un brevetto del 55 di un utero artificiale, tecnologia assolutamente impossibile da realizzarsi. Immaginate un sistema in cui il sangue viene scaldato, pompato, filtrato, tutta una macchina complicatissima. Oggi abbiamo un brevetto del Pancra artificiale, uno dei tanti, altri vi sono stati fatti vedere, dove quello che c'è dentro è in effetti la differenza tra i due sostanziale, che è tecnologia, che è innovata in maniera straordinaria e è stata in grado di consentirci di fare cose impensabili prima. Questi sono i brevetti, i brevetti depositati negli anni, negli ultimi 50 anni, che hanno la parola cuore artificiale o rene artificiale nel titolo. Vedete come è una storia di alti e bassi di fatto. Per quanto riguarda il rene è interessante perché tutti i brevetti sono degli anni 80 sostanzialmente, poi è scemata la cosa perché è diventata un prodotto industriale sostanzialmente, c'è poca innovazione, c'è molto mercato. E queste sono le pubblicazioni scientifiche. Qui vedete come anche qui il kidney, il rene, ha avuto titolo dei lavori scientifici con dentro la parola rene artificiale o cuore artificiale e vedete come queste cose sono nel caso del rene ormai vecchie, vecchie, ora si parla di altre cose, mentre nel cuore c'è stato di nuovo un grandissima produzione scientifica negli anni 80, dove in effetti si facevano i primi interventi. Ma cosa vuol dire riprogettare il corpo umano? Cioè siamo in grado di sostituire tessuti del corpo umano, organi interi del corpo umano, arti del corpo umano. Guardate, il vero problema riguarda spesso la forma, siamo in grado di costruire delle cose che hanno la forma giusta, la funzione, e credo che l'esempio del pancreas sia evidente come la funzione sia difficile da ripristinare, che sia un problema, e i materiali. Perché i materiali, quando noi parliamo di organi artificiali e organi naturali, la differenza vera è che il naturale vive di cellule, e le cellule hanno una propria capacità di esplicare funzioni, che l'acciaio, il legno, la plastica e la ceramica non sono in grado di esplicare. Quindi progettare vuol dire essere in grado di fare questo. Questo è un approccio di ginocchio, ormai è un dispositivo assolutamente industriale, non si fa quasi più ricerca su queste cose, è fatto di metallo, è fatto di plastica, la cosa importante è la forma, perché la funzione dipende molto dalla forma, e l'affidabilità, che purtroppo non è lunghissima, non è come sarebbe quella del ginocchio naturale. Dove stiamo andando? Stiamo andando a cercare di ricostruire il ginocchio, a questo punto utilizzando tessuti biologici, cellule. Cioè siamo in grado di riprogettare la funzione utilizzando le cellule, per esempio del paziente stesso. Relevo le cellule, faccio un'espansione in vitro, le coltivo e le riamplico sul paziente. Questo si fa da tempo, per esempio, sulle ostioni. I grandi ostionati vengono, la pelle viene ricostruita in vitro, utilizzando le cellule stesse. Stiamo andando verso questa direzione. Dove ci porta? Ma queste sono cose un po' inquietanti, no? Questo che vedete è un orecchio, che è stato sviluppato in un laboratorio di ricerca, utilizzando una struttura che ha la forma dell'orecchio, su cui vengono coltivate le cellule. E quindi io costruisco, di fatto, una struttura semi-artificiale, o semi-biologica, con le cellule del paziente. Questo in basso è una trachea. La trachea è stata ingegnerizzata recentemente, utilizzata anche clinicamente. Cioè è possibile costruire con le cellule del paziente una trachea semi-artificiale per sostituire. E questo inquietante, invece, è un articolo uscito su una rivista l'anno scorso, di un cinese che ha perso il naso in un incidente d'auto, e gli è stato impiantato uno scaffold, cioè una struttura con la forma del naso, affinché lui stesso facesse ricrescere il tessuto per poi rimpiantarglielo. Quindi siamo in effetti di fronte alla capacità di costruire e progettare qualcosa che è molto meno artificiale. Cioè stiamo andando verso una cosa che forse comincia ad avere non solo la forma adatta, non solo la funzione, ma anche il materiale adatto. La questione è, stiamo parlando di qualcosa di artificiale o di naturale? Cioè è artificiale perché è biologico? Scusate, perché lo faccio io? È naturale perché è biologico? Dov'è il confine qui tra naturale e artificiale? Guardate, questo è un articolo uscito nel 2010 su The Economist. Il titolo è Making a Bit of Me. E questa inquietante vignetta, in sala operatoria, è un signore che ha una stampante e stampa l'organo che gli serve. Una stampante 3D per organi. Fantascienza, diciamo, certamente. Questo è del 2014 e dice Printing a Bit of Me, sempre su The Economist. Cioè sono uscite delle macchine che si chiamano 3D bioprinter che dicono di stampare organi 3D, dove l'inchiostro è un bioinchiostro. Cioè un inchiostro che contiene fibroblasti, collagene, ci sono, questo è un brevetto del 2014, il titolo è Devices, System and Methods for the Fabrication of Tissues. Ci sono, ho trovato 10, 15 brevetti di macchine che sono 3D bioprinter. Cioè, dove stiamo andando? Questa è un po' la domanda. Dove stiamo andando? Siamo in grado di farlo? Forse cominciamo ad essere in grado di farlo, ma siamo autorizzati a farlo? Questa è la questione. E allora, quando diciamo siamo autorizzati a riprogettare il corpo, io qui non so darvi una risposta, darsi che abbia le mie idee, ma sono idee da ingegnere a cui piace giocare con i materiali e costruire le cose. Però, vi do qualche strumento per rifletterci sopra. Che sono questi? Cos'è naturale e cos'è artificiale? Esiste una distinzione tra le due cose? Esisterà ancora se esistita? Esiste un limite nell'uso dell'artificiale in medicina per sostituire pezzi del corpo umano? Esiste un limite nell'uso dei pezzi di ricambio? Dunque, la prima domanda vi rispondo con due frasi. La prima è un'intervista fatta a Emanuele Severino, che è un filosofo italiano molto noto e molto importante, che ha lasciato una lunga intervista sulla differenza fra artificiale e naturale. artificiale, e ora non ve la sto a leggere tutta, ma lui dice sostanzialmente che la differenza fra naturale e artificiale comincia a scemare. Comincia a esserci sempre meno. È sempre più difficile capire la differenza fra natura e artificio. È interessante, la trovate su Google, cercatela, perché ci sono dentro delle riflessioni anche inquietanti. E poi, come diceva prima Claudio Cobelli, abbiamo avuto una scuola di organi artificiali a Bressanone quest'anno e è intervenuto un sacerdote che è un bioeticista, un tecnoeticista, il quale gli avevo mandato una domanda per sapere se le andava bene una domanda di questo genere. Lui mi ha risposto dicendo la distinzione naturale e artificiale nel caso dell'essere umano non va vista come contraddizione. L'uomo è naturalmente artificiale. L'uomo è naturalmente artificiale, tra virgolette. Naturale e artificiale nell'uomo si distinguono per la loro formalità ma non si contrappongono. Cioè, siccome l'uomo fa le cose, artificiale è fatto dall'uomo che è naturale. Quindi il concetto è che artificiale è naturale nell'uomo. Sono di fatto insieme. La seconda domanda è esiste un limite? Ecco, il limite noi tutti diciamo quando vogliamo ripristinare una funzione trapiantiamo un cuore oppure sostituiamo un pancreas con una macchina questo lo consideriamo buono, ci piace, va bene. Ma cosa pensiamo quando potenziamo la funzione? Cioè, creiamo una funzione superiore a quella cosiddetta naturale. L'occhio che vede di notte perché è sensibile ai raggi infrarossi la mano estremamente forte che è in grado di esercitare delle prese distruggendo le cose cioè questa cosa è accettabile qui ci sono un sacco di riflessioni che vanno sul concetto del superuomo per esempio piuttosto che invece in un'evoluzione positiva è una riflessione importante anche questa ve la lascio perché non è facile discutere e chiudo con questo esiste un limite nell'uso dei pezzi di ricambio ecco qui bisogna capire cos'è il pezzo di ricambio il pezzo di ricambio è una cosa fra virgolette tutta artificiale cioè tutta fatta e solamente fatta di materiali privi di vita metalli polimeri ceramici o cominciamo a usare a costruire cose in cui dentro ci sono cellule e quindi hanno un patrimonio genetico sono state di qualcuno possono essere state del paziente stesso ma possono essere state di altri possono essere state anche di altre specie animali ecco questo è un punto critico ancora non completamente risolto credo difficile da affrontare quindi la distinzione è non tanto sulla funzione in questo caso ma sulla provenienza del materiale di origine allora la domanda era siamo capaci possiamo nel senso siamo capaci la risposta è potenzialmente sì guardate oggi siamo capaci di fare delle cose che erano inimmaginabili vent'anni fa per cui è solamente la fantasia che oggi non ci fa immaginare cosa saremo in grado di fare fra dieci anni o fra vent'anni quindi aspettiamoci di riuscire a fare delle cose straordinarie siamo autorizzati a farlo? dipende qui c'è ancora una riflessione grande i principi valgono sempre è difficile poi applicarli perché quando le cose sono nuove è difficile capire come quel principio si applica che i principi devono valere sempre però qui siamo di fronte a funzioni inattese materiali che non pensavamo di poter generare e costruire quindi qui è un campo ancora tutto aperto e poi c'è un'altra domanda ma è desiderabile tutto questo? veramente lo vogliamo? è desiderabile? e qui rispondo col professor Cobelli che la tecnologia purtroppo poi ci impone di fare cose e preferiremo stare seduti a letto a leggere un buon libro grazie grazie